5 9 5 5 5 5 6 6 5 6 5 7 7 8 Buongiorno Buongiorno Oh Oh Can 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 di papper anche? Ah, io ricetta sia po ma sarà già? a che? a che? a che? inizia? 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 a quando? non? ma? non? 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 La tradizione Lamo La tradizione Lamo è il nome di Menampuang? Sebelum è come? Sebelum è il suo tempo di Sambiho Ajawi E' chiamato a fare il suo figlio e il suo figlio E' chiamato a venampuang Segui Lamo è il suo figlio genero la solidà Так dei due sessori se chiac 이� rai al di , mio Gudgi n'è una quina Grazie a tutti.